In attesa di giocarsi la Lega Pro sul campo negli spareggi play-out, l'Aquila torna a tremare per la vicenda calcio scommesse. Nella giornata di ieri la Procura federale ha comunicato la chiusura delle indagini del terzo filone Dirty Soccer. A breve sono attesi i deferimenti. Il club aquilano è chiamato a rispondere per responsabilità oggettiva in virtù del presunto coinvolgimento dell'ex responsabile dell'area tecnica Ercole Di Nicola. Un'accusa che nei processi dei primi due filoni ha portato già alla penalizzazione di sette punti scontati in questo campionato. Stavolta le partite incriminate sono nell'ordine Martina Paganese del 20 dicembre 2014, Tutto Cuoio e Gubbio del 29 marzo 2015, Pistoiese L'Aquila del 12 aprile 2015, Gubbio Sant'Arcangelo del 19 aprile 2015, Sant'Arcangelo Ascoli del 25 aprile 2015, e L'Aquila Grosseto del 12 aprile 2015. Di queste, l'unica antecedente al 21 febbraio 2015, giorno in cui Ercole Di Nicola si dimise da responsabile dell'area tecnica Rosso-Blu, è solo Martina Paganese. Se dovesse quindi passare la stessa linea di giudizio dei primi due processi, L'Aquila rischierebbe un'effettiva penalizzazione solo per questa partita. Ad ogni modo il processo sportivo è atteso non prima dell'estate e le penalizzazioni saranno rese effettive nella prossima stagione.